Quota 10 per Natura in Festa, la rassegna interamente dedicata agli animali organizzata da Max Ornitology che si svolge a Loria. Si raddoppia per questo decennale due giorni di festa, si comincia sabato con la rassegna canina e notturna e si prosegue domenica dall'alba al tramonto con la sfilata degli asinelli, falchi in volo, la mostra a mercato di uccelli e animali esotici e poi ancora il Vesparaduno, esibizioni di soft air, insomma puro divertimento per grandi e piccini. È un evento dedicato appunto ai più piccoli per avvicinare i bambini al mondo animale perché tanti bambini ormai non conoscono neanche la realtà rurale degli animali che poi nascono in cattività. È una mostra a mercato, perciò chi eventualmente è interessato all'acquisto di qualche animale lo può acquistare. Sempre di più le persone si avvicinano al mondo animale. Cosa cerca chi vuole avere un animale in casa? Normalmente cerca un animale da compagnia, perciò il pappagallo levato a mano o il cagnolino, il cucciolo come compagno. E proprio con il proprio compagno a quattro zampe tutti possono partecipare alla rassegna canina. È aperta a tutti, anche con cani senza pedigree e anche ai bastardini. Faremo una sfilata anche dal bastardino.